Purtroppo come diceva Simone Inzaghi l'infortunio di Benjamin Pavard è più grave di quello di Francesco Acerbi è arrivato il comunicato ufficiale dopo gli esami a cui si è sottoposto il difensore francese che è stato sostituito al termine del primo tempo della gara contro il Lipsia Benjamin Pavard, leggiamo dal sito ufficiale dell'Inter, ha riportato una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra e le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana già questa dicitura nel comunicato ci fa sempre capire che si tratta di un problema comunque significativo non una cosa che passa nel giro di qualche giorno e infatti se vogliamo fare delle stime secondo me siamo attorno ai 20 giorni di stop per Benjamin Pavard che dunque guardando anche al calendario salterà sicuramente la partita contro la Fiorentina sicuramente la partita contro il Parma e ci metto dentro anche quella col Bayer Leverkusen direi anche quella contro la Lazio del 16 dicembre quindi Fiorentina, Parma, Leverkusen e Lazio secondo me sono sicure e poi mettiamo l'obiettivo su Inter Udinese di Coppa Italia oppure Inter Como probabilmente quella per me è la prima data da poter mettere in calendario come obiettivo per il recupero di Pavard 23 dicembre prossimo sostanzialmente. È uno stop importante tra l'altro nello stesso periodo più o meno in cui anche l'anno scorso Pavard si era fermato è un altro problema che va ad incidere sulla difesa che per fortuna però ha trovato una quadra con un nuovo equilibrio che sta valorizzando De Vrij e non solo è l'ennesimo stop comunque di una lista che si allunga sempre di più in questa prima parte di stagione e allora adesso l'Inter deve fare di necessità virtù deve trovare le controvisure ci sono secondo me quattro possibili conseguenze dirette rispetto a questo infortunio tra cui anche finalmente la possibilità di vedere decollare un giocatore che fin qui è stato un po' un mistero in casa Inter allora ben ritrovati amici e amici di Passione Interisti in questo nuovo episodio di oggi vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche i nostri contenuti e continuate a far crescere il nostro progetto. Come si sostituisce Pavard a questo punto? Che cosa succederà all'Inter in queste prossime cinque o sei partite che il francese purtroppo sarà costretto a saltare? Prima considerazione, primo effetto diretto sicuramente è un Jan Bisk che avrà più spazio e qui diciamo che Bisk arriva da un avvio di stagione altalenante con qualche errore che abbiamo spesso discusso ma poi devo dire che nelle ultime partite ha reagito di nuovo bene facendo secondo me anche meglio di Pavard in diversi momenti un Pavard che invece anche contro l'Ipsia è apparso un po' svagato per esempio forse condizionato già da una condizione non ottimale però diciamo che l'assenza di Pavard quest'anno fa meno paura rispetto all'anno scorso perché Bisk ha avuto un anno di crescita ed è in un momento in cui comunque si sta dimostrando affidabile e un giocatore su cui poter contare. Quindi un anno fa di questi tempi con lo stop di Pavard Bisk riuscì a ritagliarsi quello spazio all'Inter che gli permise anche di evitare poi quella cessione in prestito di cui già si parlava quest'anno può approfittarne di nuovo magari riuscendo quindi a decollare definitivamente come importanza all'interno di questa Inter. Questo secondo me comporta poi anche un'altra serie di situazioni perché Bisk sentendo anche Inzaghi nella conferenza stampa prima della partita contro l'Ipsia piace ad Inzaghi anche come alternativa a bastoni lì sulla sinistra ha detto anche che lo vorrebbe provare anche al centro ma prima cosa lo vede anche come alternativa a bastoni quindi con un Bisk che sarà sempre più utilizzato a destra vista l'assenza di Pavard a sinistra serviranno poi delle soluzioni alternative a bastoni anche perché anche Bisk è un giocatore che viene spesso sostituito e avrà bisogno di ricambio in queste partite ravvicinate per cui le opzioni sono due per sostituire bastoni adesso lì a sinistra o si comincia ad integrare sempre di più il giovane Palacios che abbiamo visto soltanto nei minuti finali della gara di Empoli e a quel punto allora per Palacios potrebbe riaprirsi uno scenario alla Bisk cioè proprio come il difensore tedesco potrebbe ritrovarsi a ringraziare tra virgolette l'infortunio di Pavard per conquistare il suo posto nell'Inter ed evitare anche qua scenari di prestito di cui si sta parlando in questi giorni oppure lo scenario più credibile è Carlos Augusto impiegato lì nel ruolo anche di bastoni impegnato quindi ancora di più come alternativa anche al nostro difensore Mancino un Carlos Augusto che secondo me per esempio contro l'Ipsia entrando lì ha fatto molto bene di conseguenza c'è anche un altro giocatore che diciamo può beneficiare da questa situazione può ritagliarsi finalmente uno spazio nello scacchiere di Simone Inzaghi e a parte Darmian che a questo punto secondo me diventa sempre più un jolly in alternanza con Bisecli a destra può essere impiegato anche a sinistra verrà utilizzato spesso anche da quinto a destra però ecco con un Darmian che diventa jolly alla luce di questa situazione potrebbe essere finalmente arrivato il momento di scoprire definitivamente Buchanan che come detto è stato fin qui sempre un oggetto misterioso un Buchanan che ha smaltito finalmente il suo infortunio grave lo abbiamo rivisto in campo con un Carlos Augusto e con Darmian che come detto serviranno molto per dare ricambio anche ai terzi di difesa dietro Buchanan finalmente può avere quell'occasione che stava aspettando per entrare nelle rotazioni secondo me in una doppia veste da un lato da alternativa a Dumfries sulla destra con delle caratteristiche diciamo differenti rispetto all'olandese anche in termini di dribbling ti può creare quella superiorità numerica anche dal punto di vista tecnico soprattutto in questo momento lo vedo come un giocatore che ti può spaccare le partite entrando dalla panchina in primis questo è la prima cosa che mi viene in mente pensando a Buchanan Buchanan ma comunque giocando soprattutto lì a destra dove secondo me è il suo ruolo e dove lo abbiamo visto soltanto nei minuti finali della gara contro il Verona anche se lì ha giocato da terzino di una difesa a quattro ecco me lo aspetto qualche metro più avanti comunque da quella parte in un ruolo che l'anno scorso doveva essere di quadrato quello di spaccare le partite a gara in corso quest'anno può essere il suo e poi magari rientrare ancora di più anche alternandosi a Dumfries fresco di rinnovo tra l'altro fino al duemila ventotto annunciato ufficialmente oppure Buchanan può tornare anche a sinistra per dare ricambio a un Di Marco se appunto Carlos Augusto verrà impiegato di più dietro un Di Marco che devo dire ultimamente è tornato a reggere i novanta minuti ad alta intensità e quindi la questione fisica che si era posta su Di Marco è venuta un pochino meno però alla lunga chiaramente anche lui avrà bisogno di rifiatare e Buchanan ce lo ricordiamo prima dell'infortunio con Inzaghi aveva giocato sempre a sinistra dall'altra parte sinistra dove secondo me comunque perdi qualcosina in fase di costruzione con un giocatore che gioca a piedi invertito però ne parlavamo anche l'anno scorso può diventare un'arma tattica per provare anche qualcosa di diverso d'altronde quest'anno abbiamo già visto un Di Marco che spesso veniva in mezzo al campo ecco Buchanan a maggior ragione può fare questa cosa partendo da sinistra venire in mezzo al campo e rispetto a Di Marco può con il destro cercare il tiro oppure cercare anche l'imbucata centrale anziché il cross che è la principale arma a disposizione del nostro esterno italiano in questo modo con Buchanan a sinistra si lascia di più a bastoni il compito di fare su e giù per la fascia oppure anche Zierischi e Mkhitaryan possono allargarsi da quella parte scambiandosi un po' di posizione come spesso era accaduto anche con Barella che a destra l'anno scorso si andava ad allargare molto con il quinto che si alzava tanto e Barella andava molto spesso a giocare sulla fascia soprattutto due anni fa anzi ma anche l'anno scorso questi sono secondo me gli scenari più credibili e quelli più interessanti con delle possibili annotazioni tattiche che potremo vedere nelle prossime settimane poi ci sarà anche secondo me qualche talento della primavera che potrebbe essere aggregato alla prima squadra anche se dubito che entrerà nelle rotazioni però per esempio abbiamo visto Aidu in panchina in Champions contro l'Ips oppure Cocchi ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa che potrebbe essere integrato a sinistra se Buchanan viene confermato sulla destra quindi a quel punto integri un primavera dall'altra parte in generale comunque Bissek De Vrij risalita su Acerbi e Bastoni penso che diventerà il riferimento di base come difesa in queste settimane diversi giocatori poi andranno a fare da jolly dandoti più soluzioni e più situazioni sia a gara in corso e non solo è un peccato sicuramente questo stop per Pavard che il rapporto a quello che è il suo potenziale a quello che è il valore aggiunto che ci si aspetta da questo difensore forse in questo momento è il big più deludente di questa Inter in questa prima parte di stagione la buona notizia come dicevo prima è che l'Inter ha ritrovato questo equilibrio dal punto di vista difensivo con un atteggiamento che è cambiato ha trovato anche un pochino più di malizia in alcune situazioni che ci ha permesso nelle ultime nove partite di subire un gol contro il Napoli e poi quei quattro gol contro la Juventus che sempre più mi viene da dire sono stati episodici è stato un caso l'aver subito quei tanti gol per un Inter che invece difensivamente si è sistemata ha visto salire molto un De Vrij che a questo punto insidia anche la titolarità di Acerbi siamo a 11 clean sheet tra campionato Champions League di fatto nessuno ha fatto meglio dell'Inter da questo punto di vista in questa prima parte di stagione stiamo ritornando dal punto di vista difensivo ad avere dei ritmi simili a quelli della scorsa stagione dove tra l'altro sempre di questi tempi ci ritrovavamo in una situazione di emergenza simile in difesa a cui però siamo riusciti diciamo a sopperire siamo riusciti a tamponare ottenendo comunque dei grandi risultati in quella che è stata poi la fase che ci ha permesso di fare il vuoto in campionato e di scappare poi soprattutto a inizio 2024 quindi sistemata la difesa adesso come detto forse si è tirata un pochettino la coperta sull'attacco c'è bisogno anche di un Lautaro a proposito di Big che stanno deludendo che venga fuori ancora meglio per cercare di fare il vuoto in campionato perché è il momento di staccarsi da questo gruppone lì in testa alla classifica fatemi sapere che ne pensate anche voi di questo stop di Pavard e delle varie soluzioni alternative chi può essere il giocatore che maggiormente avrà benefici da questo stop da questo spazio che si viene a creare scrivetemelo nei commenti ne stiamo discutendo anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club la nostra community con interisti da tutto il mondo vi aspetto lì vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast mentre per chi ci siete su YouTube vi basta cliccare qui ciao ciao Grazie a tutti.